e ci sono problemi di umidità risalito comunque di edifici ammalorati che vanno sicuramente recuperati in cui il problema il problema principale è proprio il risanamento da umidità di risalita. Il movimento verso l'alto di corrente elettrica che mi va a influenzare la muratura la muratura una volta influenzata diventa una sorta di calamita quindi ha la capacità di attirare molecole d'acqua. Serve un'alimentazione elettrica costante nel tempo per questo dispositivo? No, la peculiarità è proprio che l'onda che viene utilizzata o meglio l'energia che viene utilizzata